onore de balzac onore de balzac 1799 1850 scrittore drammaturgo critico letterario saggista giornalista in il cugino pons dice nessuno osa dire addio a un'abitudine molti suicidi si sono fermati sulla soglia della morte per il ricordo del caffè dove vanno tutte le sere a fare la loro partita di domino commento le abitudini sono un periodo evolutivo si dice addio alle abitudini quando lei si supera chi le supera e verso le ultime incarnazioni umane l'aspirante suicida proprio perché tale non è avviato verso le ultime incarnazioni umane